Buonasera telespettatori di Nettuno TV, benvenuto anche a chi ci segue in streaming su nettunotv.tv, seconda edizione della nostra telegiornale. La apriamo con la cronaca. Si sono concluse poco prima delle 13 di oggi, domenica 18 novembre, le operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale ritrovato durante lavori di scavo nell'alveo del fiume Savena-Rastignano, frazione del comune di Pianoro, alle porte di Bologna, nei pressi del civico 12 di via del Pero. La viabilità è stata ripristinata e tutti i cittadini che si sono dovuti allontanare a scopo precauzionale dalla danger zone possono rientrare nelle proprie abitazioni. Nel territorio del comune di Bologna, in particolare nella porzione di via Toscana, a ridosso del confine con Pianoro, sono state 1.606 le persone evacuate a partire dalle 7 di oggi. Le operazioni si sono svolte in collaborazione con la consulta provinciale del volontariato di protezione civile e poco meno di una quarantina di persone hanno passato le prime ore del mattino a Villa Mazzacorati, dove è stato allestito il centro di raccolta. Il centro servizi Giovanni XXIII della città di Bologna invece ha funzionato da presidio sanitario per tutti i colori che avevano particolari esigenze sanitarie e terapeutiche. Ancora la cronaca, i suoi amici hanno sentito suonare il citofono e quando hanno sentito che era lui non hanno potuto credere alle proprie orecchie, perché il ragazzo era andato solo poco prima nell'altra stanza. Episodio curioso, quantomeno ieri sera, in una palazzina di via Zanolini. Un giovane infatti avrebbe scavalcato la balaustra della terrazza di una casa dove stava cenando con amici per poi cercare di calarsi fino a terra. La presa però a un certo punto è mancata e lui è volato di sotto. Nulla di grave, ma il 118 è intervenuto sul posto, ha chiamato la polizia per accertamenti e così si è ricostruita la dinamica. Il giovane, un 21enne cittadino del Regno Unito, ma scozzese, era a tavola per una cena con altri quattro coetanei, quando di iniziativa si è allontanato dalla sala per poi ricomparire suonando al campanello da basso. Per sicurezza i sanitari hanno trasportato il ragazzo per accertamenti. Nessun trauma di rilievo, solo qualche scoriazione, ma nel sangue della giovane sono stati registrati 2,59 mg per litro di alco ed era quindi ubriaco, fradicio. Cambiamo argomento, si è tenuta l'apertura straordinaria della sede dell'Inps di Bologna per incontrare i riders in occasione dell'iniziativa nazionale informativa. L'Inps incontra i riders in sette sedi per illustrare tipologie e tutele contrattuali dell'attività. Andiamo ad ascoltare i nostri microfoni, le parole di Tommaso Falchi, membro di Riders Union. A questo punto di vista non è semplice fare una sintesi perché ci sono più piattaforme che operano anche in maniera differente. Dopodiché la paga è un po' il nodo centrale che noi abbiamo anche riportato nei vari tavoli che ci sono stati. Noi veniamo pagati sempre più a consegna e quindi la paga fissoraria si abbassa o in alcuni casi addirittura scompare. Molto spesso siamo privi di assicurazioni, non abbiamo attrezzatura adeguata e quindi insomma tutte queste cose noi le abbiamo dette in maniera chiara e fanno parte dei nostri punti di rivendicazione. Salario minimo orario agganciato al contratto collettivo nazionale di riferimento, no al cottimo appunto, un'assicurazione INAIL che ci tuteli a 360 gradi, un monte ore garantito, dei diritti sindacali. Queste per noi sono cose imprescindibili. Per quanto riguarda anche la regolamentazione che c'è, se è possibile fare anche un paragone con eventuali altri paesi che hanno questa situazione qui, cioè lì invece la gestione è diversa, sono riconosciuti anche a livello contrattuale? Sì, da questo punto di vista appunto ci sono delle differenze tra Stato e Stato ovviamente anche perché ci sono leggi differenti. Dopodiché in molti paesi si è riconosciuta la subordinazione dei lavoratori. Su questo oltre che da legge diciamo dello Stato stesso, in altri casi come per esempio in Spagna, è avvenuto tra poco, sono stati riconosciuti da un tribunale. E quindi in questo senso noi ci riconosciamo appunto come dei dipendenti perché insomma è chiaro a tutti, noi andiamo in giro con delle divise che ci dà l'azienda. Ci danno dei turni, ci dicono come fare il nostro lavoro. Quindi insomma questa cosa noi crediamo che prima o poi riusciremo a dimostrarla. Giovedì 22 novembre presso il Cineteatro Orione verrà proiettato Sezione Femminile, un film che racconta la detenzione dal punto di vista delle donne. La pellicola mette in atto lo spirito del progetto Non Solo Mimosa che porta nella sezione femminile volontarie che fanno attività con le detenute. Ce ne parla Susanna Zaccaria, l'assessore alle pari opportunità del Comune di Bologna. Una connessione forte tra l'interno del carcere, in questo caso in particolare della sezione femminile su cui ci vuole una particolare attenzione, e l'esterno della città. Un film sulla sezione femminile porta una visione di quello che le detenute vivono. È vero che sono persone che hanno commesso reati, è vero che la pena però deve avere una finalità rieducativa. Questo è intanto lo spirito del progetto Non Solo Mimosa che porta dentro alla sezione femminile tante volontarie che fanno attività diversissime, dalla ginnastica, attività di arteterapia, di scrittura, laboratori di tutti i tipi, e lo fa da diversi anni a titolo completamente gratuito, proprio volontariato puro, quindi questo già notevole per l'impegno che le persone mettono. Le parole delle detenute, la visione delle detenute porta davvero quello che loro vivono quotidianamente con una considerazione particolare al ruolo che le donne hanno anche fuori. Da lì sono donne come le altre, io lo dico sempre, sono madri che lasciano a casa i loro figli, che lasciano senza accudimento i genitori anziani durante il periodo di detenzione. Sono tante le questioni che le riguardano e questo film secondo me dà davvero un buon taglio su quello che sono cose su cui non sempre pensiamo, non sempre riflettiamo. In questo senso un importante collegamento tra la città e la sezione femminile. CNA di Bologna insieme a IFFS, Lexus Sinacta e TVB, Sistema Italia, hanno siglato due accordi di collaborazione con la provincia cinese di Shandong. La Lexus Sinacta si candida a diventare una hub per l'assistenza delle aziende dell'agroalimentare italiano interessate al mercato cinese. I nostri microfoni sentiamo Gianluigi Serafini di LS Lexus. A tempo abbiamo attivato un dipartimento nell'ambito del food e quindi siamo venuti in contatto con numerose delle principali imprese italiane del settore. Grazie a questo siamo stati contattati dalla fondazione IFS che da tempo opera in Cina. Il tema è quello di costruire assieme alla possibilità di portare una catena dell'agroalimentare nell'ambito della produzione del maiale e delle carni in Cina, anche un accompagnamento delle aziende italiane e del settore food sul mercato cinese. La volontà è quella di dar luogo ad una struttura che consenta di creare una piattaforma per la piccola media impresa italiana del food per accedere a questo mercato. Le difficoltà derivano proprio dalle dimensioni delle nostre aziende e quindi di creare una struttura che consente di poter portare un numero crescente di aziende in un mercato difficile e complesso. L'aspettativa è quella di avere una cooperazione istituzionale con questa provincia cinese per poter accedere alle loro grandi catene, alle loro grandi piattaforme di distribuzione. Nella sede di ConfCommercio Ascom sono stati presentati alcuni seminari organizzati da gruppo terziario Donna ConfCommercio Ascom in collaborazione con i carabinieri. Ai nostri microfoni Donatella Bellini, il va presidente del gruppo terziario Donna Ascom Bologna. Lo che ci preoccupa è che la violenza sulle donne è una piaga sociale enorme e se ne sente parlare sempre di più. Non potevamo star fuori da questo problema. È vero che noi di Ascom ci interessiamo soprattutto delle problematiche imprenditoriali, però non possiamo non pensare anche tutto il resto. D'altra parte noi ci siamo già interessate, spesso lo facciamo anche per esempio della salute delle nostre donne imprenditrici associate e non naturalmente. Quindi questa volta siamo sentite in dovere di occuparci anche di questo fenomeno della violenza. È chiaro che abbiamo cercato di declinare un po' questo seminario sul discorso dei punti vendita, dell'azienda dove si può subire anche violenza e aggressione. Come diceva il comandante prima, il problema maggiore è all'interno delle famiglie. Quindi se noi abbiamo vestito un po' questo piccolo breve percorso con un'intenzionalità un pochino più imprenditoriale, però è evidente che i problemi sono anche all'interno delle proprie abitazioni, sono nella quotidianità. Ma tutto quello che noi faremo e che ci verrà detto e insegnato serve sia all'interno di un'azienda che non all'interno di una casa, di un'abitazione. Questo era il nostro dovere, io sentivo il dovere di fare qualcosa di concreto per aiutare tutte noi donne, dovevamo farlo e non credo che ci fermeremo qua. All'ordine dei giornalisti si è tenuta una conferenza stampa di presentazione delle iniziative promosse da ADB Onlus, associazione diabete della provincia di Bologna, sul tema il diabete coinvolge ogni famiglia in occasione della giornata mondiale del diabete. Andiamo a sentire Adolfo Ciavarella, consulente sanitario di ADB. Il diabete è una malattia estremamente diffusa in tutto il pianeta e in Italia non lo è da meno. Pensi che in Italia ci sono almeno 3-4 milioni di diabetici e rimanendo così negli ambiti della nostra regione ce ne sono 250 mila e a Bologna circa 66 mila, quindi una prevalenza del circa 5-6%. Il grosso problema del diabete è che è una malattia estremamente importante anche dal punto di vista sociale. Il diabete se non curato può determinare delle grosse complicazioni e quindi il diabete innanzitutto va diagnosticato precocemente e curato adeguatamente con una rete assistenziale valida sul territorio e negli ospedali. Direi che la famiglia è il fulcro nell'ambito della gestione e della prevenzione della malattia perché la famiglia di solito quando è presente un soggetto diabetico viene coinvolta in maniera pesante e ha un ruolo importante. Un ruolo importante che non è soltanto nella gestione e nella cura della malattia ma anche nella prevenzione e nella diagnostica dei soggetti a rischio. Nella sede dell'associazione La Famiglia Bulnais si è tenuta la presentazione del libro di Francesco Giordano La Maserati di Bologna Luoghi, foto, testimonianze, personaggi. Questa è stata l'occasione di parlare di questa prestigiosa casa automobilistica lo abbiamo fatto con Viviana Sant'Andrea il cui padre ha lavorato nella Maserati del passato. L'intervista di Elisa Orlando Che cosa ha voluto dire per suo padre lavorare per la Maserati? Senza dubbio una grande opportunità perché era un ragazzo di montagna lui è nato a Castel del Rio aveva frequentato fino alla sesta elementare che allora c'era ed era già abbastanza per quei tempi però venendo a Bologna poter andare a lavorare in una fabbrica come la Maserati anche se allora la Maserati era all'inizio però insomma imparare quel mestiere poi vivere la vita dei piloti, delle corse lui fra l'altro ha potuto andare anche a fare allora i piloti lavoravano, correvano col meccanico e quindi lui ha corso anche ha corso con fagioli, con nuvolari insomma mi raccontava queste cose quando io ero ragazzina perché poi l'ho avuto fino a vent'anni e poi purtroppo se n'è andato giovane noi abitavamo nel quartiere di Sarufillo e quindi vicino al mulino di Parigi e lì passavano le macchine della Mille Miglia e allora lui mi portava lì ci alzavamo prestissimo la mattina per andare a vedere le macchine che passavano e lui si sentiva parte di questa realtà i motori sono proprio nell'anima dei bolognesi e dei modenesi sì sì infatti poi insomma lì il Ponte Vecchio dove c'era la fabbrica è una zona di Bologna molto insomma forse per la Maserati molto rinomata per la Maserati nel panificio Paolo Atti si è tenuta una conversazione sul legame di Rossini e Bologna attraverso la musica e la cucina al nostro microfono Anna Maria Bonaga dello storico panificio Paolo Atti e a figli che tra l'altro quest'anno compie anche 150 anni la sentiamo il suo negozio questa sera sarà il teatro di una conversazione su Rossini su Rossini perché sono 150 anni e ancora tutto il 18 della fondazione della ditta Paolo Atti mio bisnonno Paolo Atti e poi sono 150 anni dalla morte di Rossini allora mi è stato chiesto dalla professoressa Iadranca Bentini di fare un evento insieme e siamo qui siamo qui parleremo della loro parleranno della musica poi parleremo un po' di cibo perché Rossini è stato un grande gastronomo uno dei più grandi della sua epoca stanno arrivando incalzanti le feste come si sta preparando il suo negozio per questo evento? noi come dolci noi abbiamo il certosino che lei vede che sono 150 anni che viene fatto e che è famoso in tutto il mondo si spediamo in tutto il mondo con queste scatole belle ancora antiche che c'è anche lo stemma reale quindi sono forse della prima guerra mondiale e poi panettone mio figlio Paolo fa un panettone a lievito madre continuamente quindi molto fresco molto buono e poi tortellini tortellini naturalmente zuppa reale zuppa imperiale passatelli tutto quello che riguarda la mensa pranzo di Natale anche il professor Piero Omioli docente del conservatorio di Bologna ci ha parlato del rapporto del grande compositore con il cibo ancora Elisa Arlandi Rossini amava molto la tavola infatti in molte delle sue composizioni ci sono riferimenti alla gastronomia sì ci sono ci sono ultimamente ho letto anche nell'ampiezza delle sue biografie che quest'uomo è vissuto parecchio più in effetti della media all'epoca soprattutto considerando che mangiava come un matto ancora oggi c'è chi dice mangiando quello che mangiava doveva morire a 40 anni invece è durato ancora di più per la verità lui amava l'opera naturalmente è musicista però ha scritto parecchie opere comiche e come si può capire è nel repertorio comico che è più probabile che si mangi che si beva che si scherzi e così via non ci immaginiamo Enea o Ulisse che si mettono a tavola a mangiare nel comico sì e quindi capita con un minimo di frequenza per esempio nella Casa Ladra mi viene in mente ma in altre opere nella Cenerentola ad esempio si fanno allusioni a mangiate anche a scorpacciate in maniera appunto simpatica e grottesca ecco questo sì pare che il maestro abbia proprio elaborato delle sue ricette sì lui aveva alcune passioni non era bolognese come sapete però la mortadella di Bologna per lui era sopraffina usava a dire che la mortadella è più buona del prosciutto per esempio poi andava amato per i tartuffi la cosa è anche singolare perché mi è capitato in questi giorni di parlare con amiche signore ottime signore ottime gentildonne ottime cuoche le quali dicono anche un po' scherzando vorrei tanto fare una cena rossignana ma dovrei accendere un mutuo perché i tartuffi costano un occhio della testa ieri è stata la giornata di Open Day per le scuole dell'istituto Farlottine ci spiega l'importanza di questa iniziativa Mirella Lorenzini la dirigente scolastica delle Farlottine per noi l'Open Day è davvero una giornata di scuola aperta e soprattutto è anche per i nostri iscritti quindi cerchiamo di cogliere l'occasione per invitare le famiglie che già frequentano la nostra scuola per un'attività condivisa anche con i loro bimbi quindi di solito ordinariamente i genitori portano i bimbi e poi dopo hanno varie incombenze di lavoro e così via beh oggi la scuola è aperta anche per i genitori quindi bimbi e genitori impegnati in una condivisione e nel vivere uno spazio che vuole essere sempre di più un completamento un complemento delle case e quindi non so abbiamo la nostra tecnologa alimentarista che è a disposizione dei genitori per le domande sul menu siamo una scuola forse l'unica che ancora ha la cucina interna quindi anche questo per noi è un passo educativo importantissimo forse l'educazione alimentare innanzitutto si fa a tavola è l'occasione per vedere appunto alcuni laboratori che descritti dai bimbi ma insomma invece vederli proprio in prima persona aiutano quindi scuola aperta sia per le famiglie che ci vogliono conoscere ma sia per le nostre famiglie che intendono vivere la scuola insieme ai loro figli per una giornata un po' particolare ma entriamo nel dettaglio di quello che è successo negli open day delle varie sedi i bambini della scuola Santa Caterina si sono per esempio dilettati nel preparare una piadina coordinati da un concorrente di Masterchef andiamo a sentire le parole di Gloria Biolcati la referente della sede di Santa Caterina delle Farlottine piccoli bimbi concorrenti già di Masterchef noi siamo molto fortunati siamo l'unica scuola a Bologna che ha la mensa interna e proprio per questo ci teniamo a questo particolare aspetto e abbiamo pensato di proporre anche nella nostra sede Santa Caterina un piccolo laboratorio di cucina con un ex concorrente di Masterchef 6 Roberto Perugini e quindi bimbi sono all'opera e stanno realizzando una spettacolare piadina lavoreranno questa mattina ovviamente coordinati dallo chef assolutamente e dalle inossidabili meravigliose maestre che abbiamo open day anche nella scuola media San Tommaso da Quino sempre dell'istituto delle Farlottine sono stati gli studenti stessi però qui a presentare ai futuri colleghi le attività i percorsi didattici andiamo a sentire in merito le parole di Emma Zappellini coordinatrice didattica della scuola media San Tommaso da Quino presentiamo la scuola e c'è una grande entusiasmo da parte di tutti i nostri ragazzini quindi abbiamo quasi tutti gli studenti presenti che presentano attività di italiano i ragazzini di prima esperimento di chimica i ragazzini di seconda progetti di tecnologia ed arte i ragazzini di terza e apertura a tutti i nostri nuovi studenti e alle loro famiglie c'è molto entusiasmo nel presentare le attività perché è un modo di vivere la scuola in maniera molto familiare molto personale in cui i nostri ragazzi si mettono in gioco e sono fieri di presentare anche ai loro genitori e agli altri quello che fanno qui da noi sostanzialmente sono i giovani stessi a presentare la scuola per i giovani del domani sì quest'anno addirittura la presentazione generale ai genitori quindi anche quella più tecnica l'hanno fatta i nostri studenti di terza media dividendosi in porcompiti e spiegando bene la loro esperienza concreta di tutti i giorni nella nostra scuola era il nostro ultimo servizio grazie di averci seguito grazie alla regia di Filippo Patti a tutti quanti voi un buon proseguimento di serata